Al 34esimo azione crossa di Nicolini sulla destra, Guerrini intercetta con la mano in aria e l'arbitro concede il rigore. De Vecchi non sbaglia. Diciamo che ci manca solo una continuità di risultato e per il resto la squadra credo che possa ripetersi agli stessi livelli dell'anno scorso. Anche se indubbiamente è più difficile in quanto quest'anno è un campionato molto ma molto più impegnativo. Ulivieri fa entrare Maggiora per Mancini e Rossi ma è Lascoli che al ventesimo chiude la partita in maniera rocambolesca. Da Novellino a Muraro, miracolo ancora di Rossin, palla Boldini, cross, sbuccia la difesa, Greco tutto sole dà addirittura il tempo di mirare.